Alcuni pensano che avendo una Bibbia il diavolo se la dia a gambe. Non è vero. O che il diavolo quando vede una chiesa vada in un'altra direzione. No, il diavolo non ha paura della chiesa, non ha paura dell'adorazione, vuole essere l'oggetto dell'adorazione, vuole la posizione di Dio. Da oltre 40 anni, Amazing Fats si dedica alla diffusione della parola di Dio attraverso i media. Questo programma include alcuni estratti delle migliori trasmissioni televisive. Vi invitiamo a sedervi comodi e a godervi questa edizione di Amazing Fats Presents. Circa una settimana fa, forse un po' più di una settimana fa, stavo guardando alcuni canali religiosi. Abbiamo circa una decina di canali diversi e mi sono fermato ad ascoltare un predicatore. Se dicessi il nome, molti qui dentro lo riconoscerebbero. È stato sui giornali, a ministeri internazionali. È quello che si direbbe più o meno un predicatore prospero. E stava parlando del fatto che se non c'è legge, non c'è peccato. In qualche modo l'ha rigirata e l'ho sentito dire, è il diavolo che vuole che osserviate i dieci comandamenti. Cosa? E l'ha detto due o tre volte. Se qualcuno viene da voi e vi dice di osservare i dieci comandamenti, dove c'è legge e c'è peccato, quindi vi insegna a peccare. Mi sono detto, che cosa? Ho schiacciato il bottone per registrare e ho pensato, forse non l'ho capito bene. E poi ho rimandato indietro e più tardi l'ho fatto sentire a Karen un paio di giorni fa. Ho detto, ascolta, e lei mi ha detto, cosa? Perché sembrava come se ci fosse il diavolo sul Montesina e a dettare i dieci comandamenti. Quello che mi ha davvero preoccupato è che avesse un pubblico con migliaia di persone che dicevano Amen. E ho pensato, wow, il diavolo ha gente in chiesa, ci vanno. Hanno una Bibbia e sono in una chiesa e fanno tutta la fanfara e la pompa di una funzione religiosa, ma insegnano le dottrine del diavolo. Beh, da quel momento ha cominciato a farsi strada nella mia testa ed è il motivo per cui ho deciso di parlare di questo tema, quando il diavolo va in chiesa. Ora, non solo occasionalmente guardo programmi religiosi, ma mi piacciono anche i programmi sulla natura. E c'era questo programma che ho visto, ho visto in verità questo episodio varie volte, sul cuculo. Ora, non stiamo parlando di quelli che sono dentro gli orologi e vengono fuori a dirvi l'ora. Parlo del vero cuculo. E ci sono in tutte le parti del mondo, ma la cosa che il cuculo fa e che è un po' terribile, è che depone le uova nel nido di un altro uccello e poi fa crescere all'altro uccello il suo piccolo. Quando l'altro uccellino torna, non se ne accorge perché le uova sembrano uguali e quindi si siede sulle uova del cuculo. E all'improvviso si schiude prima l'uovo del cuculo. E poi, quando l'uccello esce a cercare cibo per nutrire il piccolo di cuculo, pensa che sia un suo piccolino. Il piccolo di cuculo butta fuori gli altri uccellini dal nido. Quindi mettono un impostore lì dentro e prendono il controllo. È successo in molte chiese. Ecco perché ci sono delle funzioni per cuculi là fuori, perché il diavolo va in chiesa. Quando ero piccolo pensavo, sapete, che se volevate tenere lontani i vampiri ci volevano aglio e una croce. E probabilmente avrete sentito già queste storie. E alcuni pensano che basti avere una Bibbia e il diavolo se la darà a gambe. No, non è vero. O che il diavolo quando vede una chiesa vada in un'altra direzione. No, il diavolo va in chiesa. La Bibbia è piuttosto chiara. Paolo ci ha messo in guardia dai falsi predicatori. Atti, capitolo 20, versetto 29. Infatti io so, dice Paolo, che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse, per trascinarsi dietro i discepoli. In Matteo 24 Gesù ci ha detto che soprattutto negli ultimi giorni, una cosa a cui dobbiamo davvero stare attenti è che ci saranno molti falsi profeti. Ci saranno molti falsi Cristi. Ha detto, molti verranno nel mio nome dicendo di essere il Cristo. Ora, non vuol dire che diranno di essere Cristo. Diranno di venire nel nome di Gesù, dicendo che Gesù è Cristo. E poi ci inganneranno. Molti nelle chiese, ecco perché avrete molti che andranno da Cristo e diranno, Signore, Signore, ed egli dirà, non ti conosco, eri sotto l'insegnamento di lupi. E sei stato ingannato. Matteo 7,15 Gesù ha detto, guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Secondo Corinzi 11, versetto 13, Paolo ha detto, tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. Cercano di sembrare come apostoli di Cristo, ma insegnano le dottrine del demonio e spesso lo fanno per avere seguaci e perché sono interessati all'autoadorazione. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi ci sono delle persone là fuori che fanno finta di essere ministri di giustizia, in modo da reclutare seguaci o introdurre falsi insegnamenti. Quindi come fate a saperlo? È difficile dirlo quando sono in veste di pecore. Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Sembrano angeli di luce, come lo sapete? Tutto, beh, Gesù ci ha detto da una parte che li riconosceremo dai loro frutti e ha detto che li riconosceremo dai loro insegnamenti. Se non si conformano alla parola di Dio, e ovviamente ci saranno delle somiglianze, ci saranno delle cose che suoneranno bibliche. Sapete, bisogna tornare indietro. Persino all'epoca degli apostoli c'erano problemi coi lupi tra le pecore. Paolo ci ha parlato di alcuni che gli erano capitati in terza Giovanni. Questa è la terza lettera di Giovanni, versetti 9 e 10. L'apostolo Giovanni dice, ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato tra di loro, non ci riceve. Per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole. C'era un capo della Chiesa all'epoca dell'apostolo Giovanni che allontanava la gente da un apostolo. Deve essere brutto, Giovanni era un bravo ragazzo, era l'apostolo dell'amore. Ma c'erano lupi che andavano in Chiesa anche allora. Paolo ci ha parlato di Demetrio, l'argentiere che faceva molto male. Aveva iniziato come credente. Quindi, se guardate nel Vangelo, trovate che uno dei primi miracoli che Gesù ha fatto è stato scacciare demonio. Ma guardate cos'è successo. Andate a Luca, capitolo 4, e troverete il brano parallelo in Marco, capitolo 1. Poi discesi a Capernaum, città della Galilea, e nei giorni di sabato insegnava alla gente. Ed essi stupivano del suo insegnamento, perché la sua parola era con autorità. Insegnava con potere, insegnava con autorità. Or nella sinagoga, in caso non lo sapeste, la parola sinagoga è la stessa parola di Chiesa, significa solo luogo di ritrovo. Or nella sinagoga, nella Chiesa, c'era un uomo posseduto da uno spirito di un demone immondo. Forse era nei registri da anni e nessuno sapeva che avesse lo spirito di un demone immondo, non si sa. Che si mise a gridare a gran voce, dicendo, Gesù sta insegnando, e all'improvviso si mette a gridare a un attacco. Ah, che vi è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio! Ora, aveva ragione? Tenete a mente che questi angeli caduti conoscevano Gesù prima della creazione? Conoscevano Gesù magari da milioni di anni. Non sappiamo per quanto tempo siano esistiti gli angeli prima della ribellione. Sapevano chi era Gesù. Sapete, solo perché il diavolo a volte condivide dei buoni concetti teologici, non vuol dire che non sia un diavolo. Penso fosse A.W. Tozer che abbia detto, il diavolo è un teologo migliore di tutti noi, ma è sempre un diavolo. In Giacomo capitolo 2 ha detto, tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Sapevate che i demoni credono in un solo Dio? I demoni non sono politeisti, sono monoteisti. Hanno ragione, c'è un solo Dio. Matteo, scusate Marco 4,15, dice, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. I demoni odiano la gente che ascolta la parola. Vi dirò di più a riguardo in seguito, ma qualche volta il diavolo sgattaiola nella chiesa e usa voi e me. Siete tutti consapevoli che il diavolo non infesta le case? Non mi sono mai preoccupato delle travi o dei mattoni infestati o del cemento infestato. Il diavolo infesta le persone e qualche volta può entrare in voi e in me. Quando la parola viene predicata, il diavolo cercherà sempre di mandarla via. Sapete la parabola, quella del seme che cade sul bordo della strada e i corvi arrivano e lo portano via. Tra l'altro c'erano due cuculi che sono arrivati e hanno subito portato via il seme. E vi dirò che un modo in cui il diavolo sgattaiola nella chiesa è quando un predicatore sta predicando la parola di Dio e magari la sta predicando con autorità. All'improvviso il diavolo pizzica un bimbo e il bimbo fa un urlo da lupo e la gente inizia a parlare intorno a voi e cercate di orecchiare la conversazione. Dobbiamo essere rispettosi in chiesa perché non vogliamo essere il lupo che distrae la persona accanto e la distoglie dall'ascolto della parola di Dio. E se ci preoccupiamo di cose inutili o se il diavolo a volte si insinua nei vostri pensieri e quindi quando viene detta una parola che potrebbe trasformarvi non la sentite perché siete preoccupati a pensare ad altro, quindi dobbiamo pregare che Dio ci aiuti a concentrarci sulla parola. Ora, non dovrebbe sorprenderci che il diavolo a volte vada in chiesa. Ha iniziato in chiesa. Guardate Ezechiele 28, versetto da 12 a 15. Sì, il diavolo ha iniziato in chiesa. Così dice il Signore, l'Eterno. Tu eri il sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza. Eri nell'Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni pietra preziosa. Rubini, topazzi, diamanti, crisoli, tionici, diaspri. Tra l'altro erano cose che il sommo sacerdote indossava sul suo pettorale. È come se fosse un ministro nel santuario di Dio. Cosa che era. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Forse aveva diretto il coro celeste. Aveva cantato l'odi a Dio. Il diavolo era stato un sacerdote. Era stato un direttore del coro. Tu eri un cherubino unto, un protettore. Sapete cosa vuol dire? Cos'era un cherubino unto? Lì, accanto al trono di Dio, ci sono questi due angeli. Avete letto Isaia 6? Gridano, santo, santo, santo. Si chiamano serafini lì, cherubini, e hanno sei ali. E accanto al trono di Dio, nella posizione più alta e più esaltata, accanto a Dio stesso, c'era la posizione di questi cherubini unti. Come quelli sull'arca, due cherubini unti. Era la posizione di Lucifero. Lucifero andava in chiesa. Era nel luogo santissimo della chiesa. Non ha paura della chiesa. Isaia 14. Vuole essere adorato. Se leggete i versetti da 14 a 16, in Isaia 14 si dichiara, salirò sulle parti più alte delle nubi. Sarò simile all'altissimo. Vedete, il diavolo vuole essere adorato. Non ne siate sorpresi. Sapevate quello che ha detto a Gesù nel deserto? Se ti prostrerai ad adorarmi. Il diavolo non teme la chiesa. Non ha paura dell'adorazione. Tutto quello che vuole essere l'oggetto dell'adorazione. E vuole la vostra adorazione. Quindi qual è il suo gioco finale? A che cosa mira il diavolo alla fine? Qui è dove diventa molto interessante. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 3. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno, parla del giorno del Signore, parla della fine dei tempi, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Voglio fermarmi qui. L'apostasia. Intende l'apostasia nel mondo? No, il mondo ha già apostatato al tempo di Adamo. Il mondo è caduto. Si parla di apostasia dove? Nella Chiesa. Nella Chiesa. Quel giorno, il giorno del Signore, gli eventi finali non verranno. Non verranno se prima non sia venuta l'apostasia. Prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione. L'avversario dell'adorazione di Dio. Perché? Tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Il diavolo ha problemi ad andare in chiesa? No, vuole andare in chiesa e vuole essere adorato. Questo è il suo gioco finale. Daniele 8,13. Poi udì un santo che parlava e un altro santo disse a quello che parlava, fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la trasgressione della desolazione, che abbandona il luogo santo e l'esercito a essere calpestati. Questo è l'abominio della desolazione. Il diavolo vuole calpestare il popolo di Dio e il suo luogo. Guardate Daniele 11, versetto 45. E pianterà le tende del suo palazzo fra i mari e il glorioso Monte Santo. Il suo desiderio degli ultimi tempi è di piantare le tende e mettersi sul trono in quel luogo santo. Potete leggere anche in Matteo 24,15. Gesù ci ha messo in guardia e tra l'altro sono le parole di Cristo sugli ultimi giorni. Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta, cosa dice il resto? Nel luogo santo. Dove vuole stare questo abominio della desolazione? Nel luogo santo. Cos'è il luogo santo? Il luogo dove risiede l'essere che adoriamo. Il diavolo vuole la vostra adorazione. Perché ne dubitereste? Di cosa parla il testo finale? Tutti dovranno prendere una decisione, adorare la bestia o avere il sigillo di Dio. Il diavolo vuole essere al centro dell'adorazione del mondo. Vuole essere al posto di Dio. Ecco perché ha detto a Gesù, se ti prostrerai e mi adorerai, io ti darò tutto questo. Andate a Matteo 16, dal versetto 13, è il punto in cui Gesù chiede la domandona agli apostoli. Dice, chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo sia? Ed essi dissero alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi Pietro si sente molto bene. Gesù gli sta dicendo, Pietro, hai appena avuto questo dall'ispirazione. Lo Spirito Santo te l'ha dato, viene dal Padre. Sei stato usato dal Padre per parlare come hai parlato. E Pietro guarda gli altri dicendo, Dio ha appena parlato attraverso di me, ragazzi, ve ne siete accorti? È quello che ha detto Gesù. Ho preso la parola e Dio ha parlato attraverso di me. E quindi Pietro si sente piuttosto bene. Ora, andate al versetto 22. Stesso capitolo, stesso giorno, nel giro di 20 minuti. Gesù va avanti e dice agli apostoli, devo andare a Gerusalemme, sarò tradito, sarò crocifisso, risorgerò il terzo giorno. Pietro prende Gesù da parte e gli dice, guarda, sono in un periodo fortunato, sono ispirato, metterò a posto le cose per Gesù. Prende Gesù e gli dice, guarda Gesù, non è una buona idea. Gli disse, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli voltato si disse a Pietro, vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Va bene, è un punto molto importante. Quanti vorrebbero andare nella chiesa in cui Pietro è il pastore? Non ne siete così sicuri perché sapete che un minuto Pietro dice, anche se tutti ti tradissero, io non ti tradirò mai, e poi dice, non lo conosco, non l'ho mai visto prima. Pietro ha vacillato un po', ma la mia idea è che qualche volta tutti possiamo essere un po' come Pietro, in cui un attimo prima lo Spirito Santo parla per mezzo nostro e il momento dopo urliamo come lupi a nostra moglie. Un attimo prima siamo pieni di spirito, amiamo il Signore, cantiamo le Suoi lodi, un attimo dopo abbiamo un po' di lupo dentro di noi e il diavolo entra in chiesa attraverso di noi, attraverso di me. Voglio essere sicuro di non puntare il dito contro nessuno, siamo tutti noi. E vi parlerò di una soluzione tra un attimo. La Bibbia dice, va bene, ce l'avete chiaro che il diavolo vuole abitare nel luogo santo, vero? Vero. Quindi ci sono dei luoghi santi nel mondo oggi? Ah, il vostro corpo. Non sapete che il corpo è il tempio dello Spirito Santo? Non è vero? Il diavolo non è interessato a resistere quanto ad infiltrarsi. Non è interessato a infestare le case, ma a infestare le persone. La Bibbia ci dice che Gesù ha raccontato una parabola. Due uomini salirono al tempio per pregare. Entrambi andavano nella stessa chiesa. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così. Ho sempre pensato che fosse divertente il modo in cui è scritto. Oddio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo e inizia a elencare le cose buone che fa per Dio. Che spirito aveva? L'orgoglio. Ma il pubblicano, che normalmente se vedeste questi due tipi entrare in chiesa e mi chiedeste chi vorresti fosse uno degli anziani, direi guardate il fariseo, è molto religioso, molto coscienzioso, osserva la legge, paga le decime, non tradisce la moglie. Di sicuro vorremmo che fosse a capo della chiesa. Ecco perché i discepoli votarono che Giuda sarebbe stato quello che avrebbe avuto più successo. Se guardate gli annali degli apostoli, proprio accanto a Giuda c'è scritto avrà più probabilmente successo. Andarono da Gesù e dissero guarda ci serve un buon contabile, questo tipo è grandioso, è intelligente, è brillante, è scaltro, ci serve nella nostra squadra. Qualche volta l'uomo guarda l'aspetto esteriore, Dio guarda il cuore, il fariseo dice signore ti ringrazio di non essere come gli altri. Qual è il problema? L'orgoglio. Cosa vi qualifica per essere usati da Dio? Non siete più simili al diavolo di quando siete orgogliosi. Gesù ha detto che dobbiamo essere umili. Il pubblicano, chi direste? Oh l'esattore delle tasse, non lo vogliamo. China la testa, si colpisce il petto e dice signore abbi pietà di me peccatore. E Gesù conclude dicendo che il pubblicano sarà colui che andrà da Dio, perdonato. Il fariseo che era così pieno di sé, sul trono del cuore del fariseo c'era il fariseo, non Dio. Adorava se stesso. Tutti abbiamo un po' di tutti e due dentro di noi. Quindi come fa il diavolo a venire in chiesa? Beh qualche volta viene dentro di noi. Quindi quando andiamo in chiesa andiamo per innalzare la nostra bontà? Il diavolo ama quando lo facciamo. Ci preoccupiamo di come gli altri ci hanno fatto uno sgarbo, di come ci hanno offeso o non apprezzato? Ci occupiamo del gossip? Quando cantiamo i canti, i nostri cuori sono impegnati a cantare? Stiamo adorando? Stiamo mugugnando parole a memoria o stiamo in realtà pensando ad altro? Qualche volta il diavolo può venire a distrarci da quello che Dio vorrebbe dirci. Ora, vi ho detto che noi siamo i templi. Ma la Bibbia ci dice anche che Gesù era un tempio. Gesù l'ha detto. Avete letto in Giovanni 2, versetto 19, Gesù rispose e disse loro, distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Ma stava parlando del tempio del suo corpo, dice nel versetto 21. Più di ogni altra cosa, più di venire nelle nostre chiese o nelle nostre teste, quello che il diavolo voleva era venire in Cristo. Per tutta la vita il diavolo ha fatto ogni cosa che ha potuto per far perdere a Cristo la sua calma, la sua santificazione, per farlo arrabbiare, per farlo peccare e non è riuscito a entrare nel tempio di Cristo. E siccome non è riuscito a entrare, ha fatto tutto quello che ha potuto nella rabbia per distruggerlo. E come i rapinatori delle banche che entrano in una banca e cercano di entrare nella cassaforte ma non riescono a irrompere e si arrabbiano così tanto che uscendo iniziano a sparare dappertutto solo perché sono infuriati e non sono riusciti ad arrivare dove volevano. Guardate quello che ha fatto il diavolo al corpo di Gesù. Ha cercato di far perdere la pazienza a Gesù. Cristo fu frustato, gli sputarono addosso, fu preso a pugni, fu colpito, fu insultato. Il diavolo gli ha lanciato addosso tutto quello che ha potuto per cercare di entrare ma non è riuscito. Cristo ha detto, se non vi fidate di me, Giovanni 14,30 ha detto, non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe di questo mondo. Attenti a questo e non ha nulla in me. Non ha presa su di me. Non può entrare dentro di me. L'anima di Cristo è una fortezza inespugnabile. Ora, quello che aveva Gesù lo offre a voi. Non vi piacerebbe sapere come si può proteggere l'anima. Non volete avere una chiesa in cui siamo tutti ripieni di spirito. Il motivo per cui Paolo ci ha messo in guardia e ha detto che negli ultimi giorni entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il greggio. Penso che stiamo vivendo in quei giorni, non solo con tutte le varie dottrine dei demoni e i venti di eresia che soffiano intorno a noi, non solo nel mondo con pastori bizzarri che dicono che è il diavolo che vuole che osserviate dieci comandamenti. Ci sono tutte queste teologie bizzarre, ma persino all'interno della nostra chiesa il lupo mordicchia i bordi e cerca di entrare. Spero che tutti noi siamo nella parola perché è la parola di Dio che sarà la nostra fortezza. Gesù è la parola. Amen. Come vi sbarazzate dell'oscurità? Introducendo la luce. Non basta dire, beh, andiamo in chiesa. La gente che ha crocifisso Gesù andava in chiesa. In realtà volevano che il suo corpo fosse tolto dalla croce per correre a casa e osservare il sabato. Quindi va bene osservare il sabato, ma da solo non ci salva. Dobbiamo avere i nostri cuori, le nostre menti e le nostre anime devono dimorare nel luogo di Cristo. Sapete cosa tiene lontani i lupi? Un buon pastore. E se Gesù, come dice la Bibbia, è il pastore delle nostre anime, allora non avete nulla da temere.